Cecilia Lampe, com'è la situazione qui nella piena di Gioia Etauro e con la carità sempre in prima linea per aiutare i più bisognosi? Sì, grazie. Intanto un caloroso saluto a te e a tutti i telespettatori. La situazione è sempre più critica e tragica perché è chiaro che anche questo fermo, questa lockdown che è stato giustamente azionato ha fatto un pochettino spaventare tutte le persone, intanto moltissime non stanno lavorando più e quindi c'è un bisogno maggiore. Noi, anche se non c'è quella richiesta forte del precedente lockdown, anche però stavolta stiamo raddoppiando le forniture. C'è gente che viene fino a due minuti fa, sia singole sia le Caritas per chiedere qualcosa in più perché i poveri ci sono sempre di più e sono poveri nostri, italiani, poveri che sono trovati improvvisamente con i negozi chiusi, con le attività chiuse e quindi sono trovati senza neanche qualche cosa da mangiare. Chiaramente non è solo il mangiare. La cosa è grave perché stiamo parlando di gente non povera ma gente che si trova in difficoltà economica. Sì, gente nuova, i nuovi poveri. Si trova in difficoltà economica molto forte perché per esempio tutti quelli che hanno dovuto chiudere improvvisamente perché l'ultimo decreto ha imposto la chiusura dalla sera alla mattina devono continuare a mangiare perché oltretutto vivevano alla giornata. Sono persone che non hanno delle riserve economiche da parte e che quindi riescono a vivere soltanto se ogni giorno incassano qualcosa con il loro lavoro onesto. Però questo è venuto meno e allora c'è una richiesta maggiore. Noi cerchiamo di aiutare tutti, non guardiamo niente in questo momento se non il bisogno e la mano tesa. Ecco il messaggio del Papa, tendi la tua mano al povero, per noi è un emblema. E poi noi abbiamo anche in Dioci il nostro Vescovo che continuamente ci incoraggia, ci sprona a far sì sempre meglio, il bene va fatto bene, la carità va continuata. E noi siamo qui per fare la carità insieme a tutti gli operatori delle caritas parrocchiali, insieme pure a tantissime altre associazioni che collaborano con noi e che continuano a impegnarsi in prima persona. È faticosa la carità, però da una soddisfazione grande, una enorme soddisfazione spirituale soprattutto. La prima cosa è rivolgersi alle caritas parrocchiali. Alle parrocchie, ai parroci, ai responsabili delle caritas parrocchiali è la prima cosa. Ma comunque già a noi conoscono tutti i nostri telefoni, i nostri riferimenti ce l'hanno tutti. Abbiamo la pagina Facebook, abbiamo il numero verde, abbiamo un sacco di altri modi per farci raggiungere. Nessuno deve rimanere fuori, nessuno deve rimanere fuori dalla grazia di Dio. Questa è la cosa principale e dalla carità. Noi dobbiamo includere tutti, non c'è nessuno che deve rimanere fuori.